Le immagini che state vedendo sono state girate oggi in esclusiva dalle nostre telecamere all'interno del Tempio Ossario. Immortalano le indagini scientifiche avviate dagli esperti di restauro conservativo della ditta Fiorin di Treviso e commissionate da Rete Veneta con il consenso del Comitato per la riapertura del Tempio Ossario. Sono in corso delle indagini per capire qual è lo stato del Tempio Ossario. Stiamo facendo delle indagini consistive scientifiche per capire l'intensità dell'acquisizione dell'umidità basica nelle murature. In sostanza l'umidità presente nelle pareti? Sì, l'umidità che si presenta nelle pareti e che a suo modo riesce ad inviare, ad accendere dei processi di decoesione alle strutture oggetto di muratura, i mattoni, la malta, gli intonaci e tutto il resto. Con l'utilizzo di un'apposita telecamera a raggi infrarossi, oggi sono state analizzate tutte le pareti dell'edificio sacro. Le più danneggiate sono risultate la facciata principale e la parete est. I responsabili del malessere in cui versa oggi il Tempio, dichiara l'esperto, sono in sale cristallizzato sulle pareti nel corso degli anni e in curia dell'uomo. Il sale è dettato dall'umidità che è stata acquisita dall'infiltrazione delle murature, del tetto e via dicendo. Ma non è che l'umidità entra un giorno e il giorno dopo fa un disastro. Impiega diversi mesi per poter fare una decoesione di questo tipo. Pertanto la mancanza della manutenzione oggettiva di queste strutture ha comportato questo grado di decoesione. È pericoloso entrare qui dentro perché i sali, come dicevamo prima, fanno il processo di distaccamento meccanico dei rivestimenti. Pertanto tutti i mattoni rivestiti da uno, due o tre strati di intonaco vengono ad essere staccati da rivestimento. Pertanto questo rivestimento cade a terra e se cade ogni metro quadrato di intonaco può pesare fino a 20 chili. Un malato grave ed un colossario ma certamente guaribile. Per questo Rete Veneta ha deciso di impegnarsi in prima persona perché i bassanesi meritano di vedere rieperte queste porte prima dell'avvio dei festeggiamenti per il centenario della Grande Guerra.